Buongiorno ragazzi, prima carta fuori, benvenuti stamattina al vostro oracolo di oggi, seconda carta fuori e se volete una sessione privata con me, terza carta fuori, non dovete fare altro che andare sul sito e prenotare da soli o in alternativa se volete una manina inviate una email e la mia assistente farà tutto al posto vostro, perché stavo continuando a mescolare non serve, quindi mettiamo le nostre carte a posto e invece per quelli di voi che vogliono diventare miei studenti di qualunque cosa appunto inviate un messaggio whatsapp al 338-8191-267, quindi abbiamo oggi un 3 di bastoni, un 9 di denari rovesciato e un appeso rovesciato, energie particolari in effetti che potrebbero risultare per qualcuno di noi fastidiose ma che sono passeggere, quindi ecco diciamo che non è poi così grave, anzi proprio perché sono fastidiose in realtà vanno sfruttate per tirar fuori da noi qualcosa di nuovo e adesso vedremo. Io intanto chiedo ai miei studenti come sempre di mettere in pausa, di dare la loro interpretazione nei commenti se ne hanno voglia, per tutti gli altri invece iniziamo. Il 3 di bastoni è un po' è un po' un atteggiamento mentale che abbiamo assunto, oggi potremmo svegliarci con questo atteggiamento mentale o in alternativa potremmo già averlo da qualche giorno, si tratta di stare a guardare, si tratta di stare a guardare senza agire, perché? Perché abbiamo capito dalla nostra lunga esperienza con gli esseri umani, abbiamo capito che insistere sulle cose non serve a un tubo, anzi non solo non serve ma è controproducente molto spesso, quindi quando c'è una carta come il 3 di bastoni rappresenta proprio questo, faccio una breve digressione ai miei studenti, il 3 di bastoni è qualcuno che sta lavorando con l'azione, con l'elemento fuoco, con i bastoni e infatti che cosa sono i bastoni? Le azioni che noi compiamo, l'asso è l'inizio dell'azione, il 2 è la scelta sulla direzione da prendere in cui continuare ad agire e il 3 invece è il raggiungimento di una posizione nella quale abbiamo già fatto, ma tocca agli altri fare, non possiamo far tutto noi e con il 3 ce ne accorgiamo, con il 3 ci rendiamo conto che un buon lavoro viene fatto con il lavoro di squadra, certo se siamo come dire se stiamo parlando di lavoro e siamo dei liberi professionisti, se siamo degli autonomi è ovvio che tutto è sulle nostre spalle e il lavoro lo dobbiamo fare tutto noi, ma anche in questo caso dovrebbero arrivare i clienti per poter lavorare, se manca il cliente cioè la parte esterna noi non possiamo fare altro che star lì ad aspettare. Se parliamo di relazioni io posso dirti quanto ti amo, posso farti capire che mi piaci, ma se tu dall'altra parte non ti muovi e non mi inviti a prendere un caffè rimaniamo qui, rimaniamo bloccati e io non posso fare un passo in più rispetto a quelli che mi toccano, perché rischio di entrare in un campo da gioco dove sono svantaggiata a livello energetico, a livello psicologico, sotto tutti i livelli e queste sono cose che spiego molto bene nel videocorso di psicologia karmica ed energetica, perché è fondamentale nelle coppie, nei rapporti di coppia, ma anche quando stiamo semplicemente frequentando, flirtando con qualcuno, è fondamentale capire come distribuire le energie in questo gioco, come usarle per creare una relazione, per mettere le basi per una relazione che sia equilibrata e che quindi non ci crei poi dei problemi successivamente. Se noi iniziamo una relazione senza conoscere questi elementi, ecco che stiamo entrando nel solito posto in cui c'è scritto lasciate ogni speranza voi che entrate, cioè stiamo entrando nelle solite dinamiche distruttive che ci fanno male e voi ne sapete qualcosa così come io ne so qualcosa, quindi cosa dobbiamo capire da questo? Dobbiamo capire, questa è una carta che ci dice chiaramente ragazzi le cose se siamo in due si fanno in due, se siamo in tre si fanno in tre e se siamo in dieci si fanno in dieci, solo alcune cose vanno fatte da soli, ma molte cose, noi siamo animali sociali, viviamo in una società con gli altri e molte cose che riguardano la nostra vita vanno fatte con gli altri, con la collaborazione, quindi se tu mi piaci ma non mi telefoni, io non posso star lì a telefonarti in continuazione ogni giorno finché tu non ti decidi a esprimere i tuoi sentimenti, bisogna aspettare a questo punto e il tre è proprio la carta dell'attesa, della mossa dell'altro, non in tutti i mazzi ma questo è il mazzo che io consiglio ai miei studenti di tarologia e questo è un mazzo di tarocchi universali reader white, quindi in questo specifico mazzo questo è il significato che io con il metodo maia do alla carta, che è anche molto simile a quello dato da altri autori comunque, quindi che cosa stiamo aspettando? Qual è quel qualcosa che noi abbiamo fatto, quella situazione nella quale noi abbiamo agito ma poi ci siamo dovuti fermare, ci siamo dovuti bloccare e adesso è fondamentale la mossa dell'altro o degli altri? Commentatemelo qui sotto ragazzi perché come sapete i miei studenti trovano molto utile studiare anche tramite i vostri commenti, ora il fatto è questo che il motivo per cui siamo rimasti qui bloccati a guardare quello che fanno gli altri è proprio perché con il 9 di denari rovesciato non siamo in grado di fare il passo successivo da soli, proprio non possiamo, non abbiamo i mezzi, non abbiamo gli strumenti o se li abbiamo pensiamo di non averli e non ci sentiamo abbastanza sicuri di noi, quindi in realtà averli o non averli cambia poco perché comunque se noi non ci sentiamo nella posizione per fare un movimento non lo facciamo comunque cosa prova per me? Mi cercherà? Impara a leggere la sua mente con il metodo Maya iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com per molti di voi questa impossibilità di muoversi quindi questa incapacità di spostarsi da questo punto dipende proprio dal fatto che tocca agli altri e quindi è questo l'elemento che ci mette in una posizione di blocco e di svantaggio io non ho gli strumenti per andare avanti proprio perché tocca a qualcun altro se non toccasse a quell'altra persona potrei muovermi ma in questo momento così come sono io sono un nove di denari rovesciato cioè mi manca qualcosa per agire non mi sento abbastanza sicura di me per agire potrei fare tanti errori o addirittura potrei non concludere niente e peggiorare le cose e quindi e quindi saggiamente aspetto e ho aspettato tanto sì perché l'appeso è rovesciato quindi non è l'appeso rovesciato non è qualcuno che aspetta che con pazienza guarda le cose da un punto di vista diverso finché non trova una soluzione l'appeso rovesciato è qualcuno che soluzioni ne ha cercate tante e non ne ancora trovate e quindi è rimasto nella posizione da appeso per troppo tempo perché però perché c'è qualcosa che non vediamo c'è qualcosa che noi non vediamo perché ci ostiniamo a guardare quello che fanno gli altri ci ostiniamo ad aspettare qualcosa dagli altri e noi nel frattempo non vediamo che forse non dovremo più aspettare ma dovremo semplicemente cambiare direzione o semplicemente dovremo lasciar perdere quel percorso o semplicemente dovremo rivolgerci a qualcun altro per chiedere aiuto insomma dobbiamo ampliare un attimino i nostri orizzonti da questa posizione per capire per quale cavolo di motivo siamo ancora bloccati cos'è che questo matto rovesciato ci sta indicando il matto non ce la fa più a stare in questa posizione quindi se siamo ancora in questa posizione è perché evidentemente c'è qualcosa che non abbiamo ancora capito visto qualcosa che noi pensiamo di non poter fare ma in realtà possiamo e forse si tratta proprio di mollare la presa su qualcosa accettare il fatto che qualcosa non va come noi la vogliamo e a quel punto potremmo andare avanti con la nostra vita lasciare la posizione da tre andare avanti in altro modo una cosa che vi chiedo ragazzi nei vostri commenti per favore ditemi se si tratta di relazioni dell'ambito relazionale quindi dell'ambito sentimentale o di altre cose perché queste altre cose che possono riguardarci come il lavoro le amicizie progetti vari eccetera sono molto interessanti per i miei studenti per chi studia appunto tramite queste stese per chi fa pratica ma adesso vediamo un po se gli angeli in qualche modo magari ci danno una bottarella una spintarella verso qualcosa altro quindi prendiamo una carta e intanto ragazzi io vi ricordo che per diventare miei studenti di qualunque cosa quindi tarologia con il metodo maia psicologia carmica ed energetica che tra l'altro fra un po continuerà con guarigione carmica ed energetica il secondo corso di questa saga oppure magia d'amore i segreti della telepsichia potete inviare un whatsapp al 338 8191267 per sessioni private o pacchetti che comprendano coaching analisi carmica invece potete inviare una email e la mia assistente con calma vi spiegherà tutto o andare sul sito e fare tutto da soli quindi la carta non vuole uscire la dobbiamo prendere noi l'imperatore con l'arcangelo michele è solo michele ci può è solo michele con la sua spada cosa ci dice che dobbiamo utilizzare la logica ragazzi dobbiamo utilizzare la logica essere organizzati avere struttura disciplina e capacità di leadership è ovvio che se non ce lo dice michele chi ce lo deve dire il punto è che in queste situazioni quando si rimane bloccati in questo modo perché c'era più evidente di così che siamo rimasti bloccati in qualcosa io voglio solo sapere in che cosa siete rimasti bloccati ma è evidente in questi casi in effetti uno dei metodi che noi abbiamo per cambiare punto di vista per guardare meglio e per vedere quello che non vediamo quindi per ruotare finalmente la carta dell'appeso e magari liberarcene è proprio quello di a entrare nel mood del leader immedesimarci con il leader della situazione e quindi domandarci se questa situazione dipendesse da me solo da me ed esclusivamente da me che cosa potrei fare per sbloccare le energie o sbloccare le energie non significa che gli altri devono fare quello che vogliamo noi e che se noi siamo innamorati di uno che manco ci considera questo poi si innamora di noi non significa quello ragazzi la nostra libertà finisce dove comincia quella degli altri e la telepsichia si basa proprio su questo io non posso fare il rituale schioccare le dita e tu vieni da me infatti chi di voi ha fatto rituali di legamento di tutta sta roba con maghi e maghetti vari ha visto che non funzionano nell'80 per cento 90 per cento dei casi e che avete buttato pure i soldi nel cesso nell'80 90 per cento dei casi per non parlare delle complicazioni a livello energetico a livello karmico per non parlare di tutte le conseguenze che veramente non sto qui a dirvele non sto qui a dirvele ma io su questo vi ho anche creato una lezione gratuita che un po di tempo fa ho regalato a tutti gli iscritti a tutti quelli che mi hanno lasciato il numero di telefono nella newsletter quindi io vi ho anche dato del materiale gratuito preso dal videocorso di magia d'amore e i segreti della telepsichia proprio per spiegarvi che non si può non conviene interferire con la magia sulla vita degli altri sul volere degli altri se non sappiamo quello che stiamo facendo noi o maghi chiunque sia perché ricade comunque su di voi anche se vi dicono che siete protetti perché il mago vi protegge e quindi non vi dovete preoccupare di nulla vabbè se ci volete credere credeteci ma qui il punto è che la carta ci sta dicendo dobbiamo diventare dei leader cioè dei leader significa che noi dobbiamo strutturare prima dentro di noi e poi al di fuori di noi un piano non per convincere gli altri a fare quello che noi vogliamo per forza ma per trovare noi stessi la soluzione migliore per noi indipendentemente da quello che fanno gli altri ed ecco perché parlo di della differenza fra la ritualistica e la telepsichia perché con la ritualistica sembra che tu vuoi imporre all'altro che deve venire da te e se non lo vuole fare con le buone glielo vuoi fare con le cattive ci metti in mezzo la magia nera lo spiritello eccetera eccetera al di là di quello che create non funziona molte volte nemmeno quello funziona per quanto potente sia il mago bla 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 non funziona manco quello ecco invece con la telepsichia quello che voi fate portare l'altra persona a convincersi di voler stare con voi in modo graduale naturale in modo da seguire gli stessi schemi fisiologici che noi appunto abbiamo naturalmente spontaneamente quando ci innamoriamo di qualcuno quindi non è una forzatura tu ti devi innamorare di me no è un guarda che tu ti stai innamorando di me punto puntini 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 e giorno dopo giorno l'energia aumenta e l'innamoramento si crea davvero quindi non è una finzione ma è una realtà che noi creiamo nella mente dell'altro questo essere dei leader ma nel caso in cui comunque non è il nostro potere fare questo per vari motivi che non sto qui ad elencare ciò che noi dobbiamo fare è in ogni caso trovare la soluzione migliore per noi e di sicuro la soluzione migliore per noi non è rimanere appesi non è rimanere qui non è non vedere cosa stiamo sbagliando noi dobbiamo darci una struttura una organizzazione dobbiamo fare le cose con logica ma soprattutto con disciplina la disciplina significa che se io sto facendo telepsichia la devo fare tutti i giorni per un'ora al giorno se salto due tre giorni alla settimana e poi non funziona grazie ovvio ovvio quindi disciplina struttura dobbiamo sapere che cosa stiamo facendo se decidiamo perché la logica ci dice che dobbiamo chiudere una relazione se decidiamo di allontanarci da una persona perché la logica ci dice che è giusto farlo noi dobbiamo poi essere disciplinati su questo dobbiamo darci una struttura non possiamo oggi pensare in un modo e domani in un altro non va bene inoltre organizzazione organizzazione significa che io ho bisogno di un piano che io non mi posso basare semplicemente sulla speranza che quello che penso oggi lo penserò anche domani mi serve un piano di azione se io so che rischio di essere debole e rischio di avere delle ricadute su un certo argomento io devo creare per me le condizioni per non ricaderci ed ecco a cosa servono qui in questo caso i percorsi di coaching one to one cioè i percorsi di crescita personale che faccio privatamente ma che potete fare con chiunque non esisto solo io ragazzi esistono tantissime e diverse figure professionali che accompagnano nei percorsi di crescita personale basta solo trovare il vostro modo quello più adatto a voi ma ecco tutti questi con tutti questi elementi l'imperatore con l'arcangelo michele ci sta dicendo ragazzi che l'unico modo per uscire da questo impasse è che noi diventiamo i leader di noi stessi anziché dipendere dalle azioni degli altri perché se siamo qui bloccati e vediamo che gli altri non agiscono cosa facciamo rimaniamo bloccati per tutta la vita ad aspettare gli altri no perché un leader non farebbe questo un leader non rimane lì come un babbano scusate con babbasuni babbasuni babbano mi sa che quelli di harry potter hanno preso una parola di origine siciliana e l'hanno modificata perché babbasuni significa stupido babbano sono gli esseri umani nel mondo di harry potter se non sbaglio perché poi non è che io segua questi film quindi ragazzi stiamo lì ad aspettare o decidiamo di diventare noi quelli che creano la loro realtà ecco diventiamo noi leader diventiamo i nostri leader e per il resto ragazzi inviate un messaggio andate sul sito su email bla 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 ci vediamo domani ciao ciao